Cristiano Malgioglio attacca Danilo Aquino, uno dei concorrenti rinchiusi nella casa di Grande Fratello XV. L'opinionista di GF 2018 commenta così l'ultima polemica riguardante il ragazzo romano arruolato nel cast del programma di Canale 5. Queste le dichiarazioni rilasciate da Malghia a Spai, quello che ho letto, dice il cantautore, intervistato, mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero per me deve uscire immediatamente. Nell'intervista rilasciata al settimanale di Gossip, il cantante fornisce anche alcune anticipazioni su quello che succederà nel secondo appuntamento con reality, vi anticipo, fa sapere Malgioglio, che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Secondo quanto riportato dai vari media, sul profilo Facebook di Danilo Aquino sarebbero state pubblicate e poi rimosse delle frasi ritenute omofobe e razziste. Intanto, sul racconto dei concorrenti fatto dalla TV è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che in un tweet ha così commentato, punto punto punto, ci sarebbe da interrogarsi sul perché nei reality siano date possibilità quasi smpre e solo a ignoranti, cretine, gente torbida, avanzi di galera o personaggi da triste circo di periferia. Oltre a Danilo Aquino, nell'intervista Cristiano Malgioglio attacca altri due concorrenti di GF15, Aida Nizzari Simone Coccia con l'aiuta. La showgirl spagnola viene da lui definita un'esaltata che non è certo famosa come dice. Dell'ex spogliarellista, invece, l'opinionista ne parla dicendo che è uno che si vanta di aver avuto duemila donne, come se fossero fazzolettine di carta da usare e buttare. Insomma, sembra proprio che anche nella seconda puntata dalla Cinquecento alla Uno Grande Fratello 2018 litri opinionista libero Cristiano Malgioglio non le manderà a dire. A spiegare il motivo è lui stesso nella recente chiacchierata in uscita su Spy da domani, 20 aprile, sono libero di fare e dire ciò che penso. La mia vita non è fare l'opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere le palle, il coraggio. Non nascondermi mai. Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l'inferno. Queste le parole di Malgi.